Musica Salve a tutti ragazzi ben ritrovati qua sul canale di Battle for Games Io sono Carlo e oggi ragazzi siamo tornati per una videoguida Credo che sia la prima videoguida che facciamo sul canale Oggi ragazzi vi voglio spiegare come fare a connettere un fantastico controller della PS4 Il famoso DualShock 4 Al computer, cioè se voi volete utilizzare questo fantastico controller per giocare al computer Oggi vi spiegherò come fare Possono esserci due modi per collegare il controller al PC Allora diciamo che il metodo che utilizzo io e che secondo me è il più comodo è via Bluetooth Il controller si connette normalmente alla Play 4 via Bluetooth e non via wireless o via Wi-Fi Infatti qui dentro c'è un dispositivo Bluetooth che gli permette di connettersi alla Play Cosa ci serve? Anzi cosa vi serve perché io ce l'ho già Dovete acquistare una piccola chiavettina Bluetooth Tipo questa Adesso la start un attimo Intanto così sentirete anche voi il suono Tipo questa fantastica chiavettina qua Bluetooth costano tipo 8€ In un qualsiasi supermercato In un qualsiasi supermercato secondo me anche si trova Comunque in un qualsiasi negozio di informatica tipo 8€ una chiavetta Bluetooth installata con i suoi driver Intanto l'aria attacca così se ci serve, anzi ci servirà Le installate i driver e funzionerà direttamente Allora o se no, vabbè, classica, se no altro metodo classico con un cavo, con il cavo USB Che adesso non ce l'ho, no si forse qua questo Con un cavo micro USB lo potete connettere tranquillamente al vostro case E però non funzionerà subito Infatti dovrete scaricare ragazzi alcune cose Perché come ben sapete il controller della Play 4 se lo connettete al PC non funzionerà subito O magari vi funzionerà però i tasti non corrispondono alla funzione principale che devono avere Quindi dovete andare sul vostro fantastico PC Eccoci qua, benvenuti sul mio desktop Fantastico, vero? Dovete scaricarvi questo fantastico tool UDS4 Windows Allora, lo ve lo apro dopo Dovete andare su internet Vi lascerò tutti i siti in descrizione comunque Quindi andate qua sotto, leggetevela tutta quanta e troverete anche i link Dovete andare su questo fantastico sito principalmente E scaricare questo tool Andatevi un po' in fondo, trovate download 1.5.22 O magari se ci sarà una versione più aggiornata Ci sarà, scaricate quella, nessun problema E lo scaricate Prima di installarla però ragazzi Dovete scaricare i driver per il pad dell'Xbox 360 Che è praticamente quello che andrà a prendere E andrà a configurarsi come un pad dell'Xbox 360 Quindi dovrete andare sui doveri a Microsoft Che anche questo trovate il link in descrizione E scaricarvi i driver Potete cercare tranquillamente su Google Driver controller Xbox 360 Così ci sarà il sito Microsoft Come potete vedere Che vi lascerò anche questo in descrizione per fare prima Edite il sistema operativo che state utilizzando In questo caso io ho Windows 8 Che non c'è Quindi do Windows 7 Non dovrebbero esserci problemi E scaricate questo pacchetto qua Xbox 360 Non mi evidenzia il mondo Xbox 360 Software E fate download E fine Per installazione Installate prima i driver dell'Xbox E poi le tool Questo qua di Di S4 Perché? Non lo so Però funziona Cioè installate prima i driver E poi il tool Fine Così Si fa così Non chiedetemi il perché Allora Come connettere il pad Intanto via USB Con un classico cavo USB Lo connettete al vostro PC Infatti adesso lo andrò a fare Adesso ho il cavo un po' corto Infatti adesso Speriamo che Facciamo così Ecco Adesso ho connesso il mio fantastico Controller E come vedete adesso Beh io avevo già il programma aperto Però vabbè Mi ha rilevato subito il controller connesso Infatti se lo apro Senza nessun problema Mi dice che ci ho connesso un DualShock 4 E come vedete C'è tutti i giroscopi E gli accelerometri funzionano Quindi come vedete Le barre si muovono Si muove il controller E quindi funziona tutto perfettamente Inoltre se voi andate in Pannello di controllo Hardware e suoni Dispositivi e stampanti Potete vedere che c'è Un Xbox 360 controller For Windows Andate in impostazioni Proprietà Come potete vedere Funziona tutto perfetto Tutti i tasti vengono rilevati Perché ci rileva un Xbox 360 controller For Windows Anche se è un DualShock 4 Perché avete installato I driver Del Xbox Ed è questo che Principalmente la funzione Che devi fare Ora Veniamo al bello Stacchiamo Adesso vediamo qua Adesso si incazzerà un po' Perché l'ho staccato così A canne Però vabbè Chiudiamo un attimo il programma Ok La sconnesso Disconnesso anche lui Vogliamo collegarlo Questo via Bluetooth Come vedete Adesso vi faccio vedere Che funziona Io ho la mia chiavettina Inserita nelle computer Basta che Prima Apro programma Magari Ok Me l'ha aperto qua Nessun controller Trovato Io premo il pulsantino Lui lampeggia un po' E come vedete Lui me l'ha subito rilevato Controller connesso Senza fili Come si fa ragazzi Una volta che avete La vostra chiavettina Bluetooth Collegata al computer Prima facciamo così Chiudiamo Anzi Lo disconnetto un attimo Dopo vi spiegherò Anche come si fa Allora Come connettere Il DualShock 4 Con via Bluetooth Allora Dovete andare Nelle vostre impostazioni Del Bluetooth Io ce l'ho qua In basso a sinistra Cioè voi saprete Dove avete Bluetooth al massimo Andate in pannello di controllo Dispositivi Ci sarà la vostra chiavettina Bluetooth E da lì fate Aggiungi dispositivi Bluetooth Quindi io faccio Aggiungi un dispositivo Mi aprirà Vabbè io ho Windows 8 E mi apre la cosa La finestra di Windows 8 E come vedete Mi viene a gestire I dispositivi Bluetooth Ora Come fare per Diciamo Rendere il controller Visibile a tutti i dispositivi Dovete premere Share E il tasto PS Insieme Quindi cioè Io tengo premuto un attimo Il tasto share Per evitare stronzate E premo Tengo premuto il tasto PS Come vedete inizierà a lampeggiare In una maniera strana Ecco Vedete Adesso il nostro DualShock 4 È visibile a tutti i dispositivi E come vedete Il computer me l'ha rilevato Wireless controller Pronto per l'associazione Associa Ora Ci metterà un po' Come vedete Sta caricando Vi installerà Automaticamente I driver Del controller Comunque A meno che non li avevate Già installati Ci metto un po' Per fare questa cosa Ok Wireless controller Connesso Visto Non è difficile Adesso qui Posso chiudere Apro il mio bel tool DS4 Windows Come sentite Ha fatto il suono Come se avessimo Connesso un dispositivo A me me lo apre Sempre qua sotto Non so per quale motivo Eccoci qua ragazzi Ci abbiamo connesso Il nostro fantastico DualShock 4 Via Bluetooth Che era quello Principalmente Che vi volevo spiegare Stasera Oggi O quando state vedendo Questo video Come vedete anche qua Tutti i giroscopi Accelerometro Funziona Perché io se faccio così Sullo schermo Mi rileva Stessa cosa Se vado in Pannello di controllo Hardware e suoni Dispositivi e stampanti E anche qui c'è di nuovo Xbox 360 controllers for Windows Faccio impostazioni Proprietà E funzionano Tutti i tasti Una volta che avete connesso Il vostro controller Via Bluetooth Potete fare varie operazioni Come potete vedere In impostazioni da qualche parte Credo qui Potete crearvi vari profili Di base c'è anche il touchpad Che praticamente funziona Tipo come il touchpad Dei portatili Che potete muovere La freccina del mouse E ha messa sul cazzo altamente Perché in tutti i giochi Appena tocchi questo Inizia a sclerare La freccina del mouse Quindi potete andare Tranquillamente qua Crearvi un nuovo profilo Come vedete Vabbè io ce ne ho già uno Andate in Qua In configuration Trackpad select Enable Trackpad Il mio inglese è fantastico E togliete la spunta E poi comunque qua Penso che Siete Siete in grado Di gestirvelo da soli E Comunque configurare Il vostro controller Come vi pare Potete cambiare addirittura Il colore della lucina Per dirvi Cioè potete fare Quel che volete Comunque fate un nuovo profilo E poi lo salvate E fine Una volta che avete smesso Di giocare Per disconnetterlo Basta che Premete Il tasto ps E il tasto option Disconnesso Vedete Di controller 1 Disconnesso Fine Per riconnetterlo Basta premere il tasto ps Come fate con la vostra PS4 Come vedete Eccolo qua Fatto Perfetto ragazzi Ora potete giocare A tutti i giochi Che volete sul computer Con Il vostro pad Della play 4 Se avete una play 4 Io vi consiglio assolutamente Questa cosa Perché È veramente una figata Funziona alla perfezione Direi con quasi tutte le chiavette bluetooth Non penso che ci siano Nessun tipo di problema Ok ragazzi Io spero che il video vi sia piaciuto E più che altro Spero che vi sia stato utile Perché comunque C'è una cosa che secondo me Io ho trovato molto utile E ho pensato di farvi vedere Di illustrarvi Così se Su youtube C'è qualcuno Che gli può servire questa cosa Una videoguida in italiano Che Cioè Per italiani Non fa mai male Quindi ragazzi Io spero che il video vi sia piaciuto In tal caso Lasciate un bel like Commentatemi qui sotto Scrivendomi Se ci siete riusciti Anche voi A connettere questo controller Al vostro pc Iscrivetevi al canale Per supportarvi Per supportarci Sì Per supportarvi Va bene così Supportatevi al 100% Da soli E niente Ragazzi Ci vediamo al prossimo video Alla prossima videoguida Ciao